Enterprise Europe Network La più grande rete a supporto delle PMI orientate ai mercati esteri. 3.000 esperti locali Oltre 600 partner locali Più di 60 paesi nel mondo Un'ampia gamma di servizi per le PMI che guardano ai mercati esteri Supporto all'innovazione Accesso al credito e ai programmi di finanziamento europei Informazioni sulla legislazione UE Supporto in tema di proprietà intellettuale Ricerca partner internazionali Eventi di broccheraggio e missioni commerciali Analisi dei mercati 90.000 contatti d'affari nei nostri B2B e missioni commerciali ogni anno 2.500 PMI ogni anno beneficiano dei nostri servizi personalizzati di supporto all'innovazione Servizi specialistici per Scale Up E... funziona! L'86% delle PMI è soddisfatto Le PMI che usano la nostra rete crescono in medio del 3% in più di quelle che non lo fanno Aiutiamo le imprese che vogliono innovare e internazionalizzarsi Come possiamo aiutarti? Enterprise Europe Network